Musica Arriva in aula il testo finale della commissione speciale vaccini istituita dal Consiglio regionale per analizzare cosa è andato e cosa è mancato in regione toscana durante la fase pandemica Meglio sono due le relazioni una di maggioranza e una di minoranza un lavoro in buona parte condiviso che però ha trovato conclusioni diverse da parte dei vari gruppi politici Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta al Presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale pensiamo agli alberghi sanitari ai percorsi protetti negli ospedali per i covid e non covid una riorganizzazione profonda alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente per usare un termine assolutamente in voga nei nostri giorni chiaramente potendo contare su un sistema articolato che ha saputo dare risposta analoga basandosi sia sugli operatori sanitari sul mondo del volontariato ma anche sui sindaci sul sistema delle farmacie sui medici di medicina generale pediatri libera scelta e oggi ancora oggi vediamo che per i dati della vaccinazione la Regione Toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale questa è ovviamente un'eredità di conoscenze dalle quali ripartire per immaginare la sanità del futuro nella quale rafforzare la medicina del territorio La maggioranza del Consiglio dice Fratelli d'Italia è rimasta chiusa nella logica dei primati Si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi taluni situazioni dettate da un'impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costate chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in Regione Toscana nonostante questo il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale di tutto il terzo settore di questa Regione Toscana che è un patrimonio una ricchezza inestimabile che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente in realtà di arrivare a recuperare un rapporto migliore della rete ospedaliera con il territorio partendo chiaramente dagli ospedali di periferia di lavorare chiaramente in attesa degli interventi del Governo sulla carenza di personale la formazione del personale e la dislocazione di questo personale però un punto fondamentale serve perché abbiamo riportato al centro di tutta questa storia il cittadino, il toscano c'è l'esigenza anche di tornare a formare ed educare il toscano sotto i profili dell'alfabetizzazione e della digitalizzazione e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della regione toscana che da parte nostra non ha avuto coraggio soprattutto nella prima fase quando a livello governativo gestiva Arcuri secondo noi l'arrivo di Figliolo ha poi cambiato le linee si è andati a vaccinare gli ultraottantenni ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili i loro caregiver e su questo la regione toscana non ha fatto niente e poi anche sulle vaccinazioni degli anziani degli ultraottantenni insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale per il Movimento 5 Stelle quello che emerge è la chiara mancanza di un piano pandemico adeguato sicuramente sono stati fatti degli errori dovuti anche alla situazione eccezionale della pandemia ma anche a delle mancanze soprattutto di programmazione e di pianificazione che erano evidenti erano evidenti per noi dell'opposizione non sono mai state diciamo condivise dalla maggioranza non ricordo il numero delle interrogazioni che ho fatto anche direttamente in aula all'assessore oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione di inchiesta i cittadini non avrebbero mai saputo che in regione toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato ma non era mai stato attuato neanche in minima parte questo che cosa ha voluto dire ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini vista l'eccezionalità della situazione l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno verso quei cittadini che si sono trovati indifesi ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo quello che è fondamentale in una fase emergenziale è la gestione del panico della popolazione tutto questo non è stato fatto è stato fatto un buon lavoro dice Italia Viva che va adesso esteso a livello nazionale partendo dalla Toscana si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione di inchiesta perché nel mentre le persone morivano nel mentre le persone venivano soccorse venivano in alcuni casi curate nel mentre il volontariato i medici davano tutto se stesso per aiutare gli altri c'era chi faceva affari magari sulla disgrazia degli altri e questo va messo alla luce va fatto una commissione di inchiesta con poteri parlamentari quindi dalla Toscana dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva così come avviene a livello toscano parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente di inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia però che riprendeva la richiesta di Italia Viva è stato respinto a maggioranza sul lavoro della commissione è intervenuto anche il presidente della giunta regionale da un'organizzazione che non esisteva perché l'ultima pandemia era stata più di cent'anni fa la spagnola dal 1918 al 1920 abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini a portare una copertura al 96-97% il motivo per cui oggi il covid in Toscana quasi non esiste più stamattina non c'erano nemmeno 200 contagi è proprio perché la nostra macchina organizzativa la nostra capacità di rapporto con i cittadini le energie che hanno visto coinvolto il sistema sanitario regionale con tante persone che come organizzazioni di volontariato medici e infermieri in pensione hanno contribuito a creare questo meccanismo ha consentito di superare il covid vantati dallo stesso generale Figliolo commissario nazionale come una delle due tre regioni in assoluto più efficaci nelle misure e nel modo di approcciare quello che è stata la questione della pandemia ha ragione la senatrice Segre obiettivo di tutti noi è fare in modo che tutto questo non finisca nell'oblio un centinaio di giovanissimi studenti del comprensivo Buonarroti di Ponte Egola hanno incontrato le istituzioni confrontandosi sui temi della Shoah al termine della mattinata sono arrivati impegni concreti perché l'albero della memoria fortifichi sempre più le sue radici io proporrò in consiglio regionale una legge e ora vediamo se di iniziativa parlamentare in cui realizzare una sorta di servizio civile della memoria ogni ragazzo toscano prima dei 18 anni dovrebbe visitare almeno uno di questi luoghi simbolo perché toccare con mano ti rende più consapevoli penso al parco della pace di Sant'Anna di Stazzema ai campi di sterminio la possibilità di vedere toccare con mano il binario 16 alla stazione di Firenze dove partivano treni strapieni di ebrei di sinti di rom ecco a noi il compito di essere amplificatori di memoria poi i treni della memoria che torneranno appena possibile secondo me dovremmo raddoppiare triplicare le risorse come consiglio regionale come assemblea legislativa per finanziare i treni della memoria quando si tocca con mano si torna si torna cittadini diversi investire sui treni della memoria vuol dire investire sul futuro l'incontro è stato una utile esperienza per i ragazzi dice la preside del Buonarroti soltanto con un incontro ravvicinato con il dialogo con le persone che si occupano delle istituzioni i ragazzi possono veramente comprendere come funzionano tutte le istituzioni del nostro stato democratico che permettono una partecipazione dei cittadini attiva come hanno lavorato i ragazzi all'interno di questo progetto che cosa hanno fatto hanno letto dei testi hanno visto delle testimonianze hanno visto chiaramente anche le immagini e diciamo hanno potuto così farsi un'idea su che cosa sia capitato purtroppo nel periodo nazifascista e naturalmente la testimonianza è stata importante perché la lettura è stata verificata dalle immagini e dai racconti video in cui si sono resi conto delle sofferenze e dell'inutilità di queste sofferenze che si sono verificate appunto in questo periodo nel periodo degli anni 30-40 insomma dopo che l'ultimo testimone delle persecuzioni sarà scomparso il rischio paventato anche dalle istituzioni è che i programmi scolastici da soli potrebbero non essere sufficienti a sconfiggere l'oblio la novità è che i ragazzi lavorano specificatamente una parte dell'anno su una parte di storia una parte di storia però molto importante che fa parte della nostra identità anche di essere italiani il rischio se no solo con i programmi scolastici è di arrivare sempre alla fine invece noi dobbiamo fare con i ragazzi un lavoro con a fianco le istituzioni proprio per ricordare anche la tragedia dell'olocausto ma ricordare anche i saminiatessi che ad esempio sono morti nei campi sterminio e anche coloro che invece si sono distinti per aver salvato altre vite l'abbiamo ricordato qui questa mattina Giuseppe Dani nostro concittadino saminiatese giusto tra le nazioni perché salvò la famiglia Cividalli una famiglia ebraica e è stato insignito il 3 di novembre 2021 del titolo di giusto tra le nazioni di Israele in sinagoga a Firenze è un'emozione grandissima è un onore essere qui a Firenze a aprire questa mostra e poter esporre le mie opere e potermi confrontare con persone di cultura e anche di altri artisti è molto importante diciamo che è una mossa un po' complessa perché rappresenta quattro anni di esperienze varie quindi sono cose anche molto etenogene ma il filo conduttore è il cambiamento la metamorfosi il ritmo la trasformazione della materia continua che avviene nel tempo Bio onirico è la mostra di Paolo De Lisa inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi del Palazzo del Pegaso in mostra le opere dell'ultimo periodo dell'artista pisano realizzate tra il 2018 e il 2022 noi ci siamo detti di voler dare voce a chi ha meno voce far conoscere i talenti della Toscana e ne sono tanti noi viviamo in un luogo Firenze la Toscana dove l'arte la bellezza sono all'ordine del giorno penso che con questa mostra invito le cittadine e i cittadini toscani a venirla a visitare si riesce a guardare anche al futuro è una mostra che prova a raccontare cosa saremo cosa vorremmo essere con forme difficili da comprendere all'inizio ma che sanno arrivare la mostra a Bionirico spiega la curatrice Caterina Ceccioni nasce da una stretta collaborazione lo spettatore osservando le opere percepirà un mondo fantastico popolato da creature brulicanti da figure mistiche e da esseri biomeccanici con sembianze antropomorfe a tratti aliene è stata una collaborazione molto interessante e molto proficua suppongo spero e quindi questo è quanto spero vi piaccia la mostra attra il Grazie per la visione!